Ma chi sei arrivato a posta? No, chi sono i guardieri? E chi sono? Un corriere dell'orto come rotola Senza di te siamo tutti vuoti Riempici col tuo amore, con la saggezza dei tuoi 60 anni Oh, il biglietto è troppo serioso Davide l'uova, perché ci riempie come le uova Questa è un po' di avancato Vuole un cartello Non hanno fatto risparmio per niente Questa è l'estremis Non è assai, venimmo già Notare che sono tre No, quattro Quattro Se siamo vuoti ci devo riempire io E se stanno riempire con giallo Dica che c'è con le tre o me Che stavo tu? Ma piccino da chi stavo tu? Tre E già il triccio così No, sono quattro Qua sono quattro Perché siamo quattro che partiamo Siamo quattro a partire Uno fu semplice Come se questa cosa fu semplice Ma certo ingordi Va fatta Va beh, cercherò di riempire tutti Prima? No Ancora notte Tu chi è? Tu fai giusti? Eh? Io ho provo serio Sì, è serio Ah, Valeria Vivace, amante Vivace, amante Libere emozioni Ricerche impaziente avventura Come viene la batteria? Abbiamo cercato di formare Un avviso pubblico Ah, ho capito Perché i pregioreti da minuti Giusto E se non fai questo Come fa minuti? Questo calo vuoi Tutto un calo quadretto Va bene Allora Con il nome di Valeria E abbiamo scritto Vivace, amante Libere emozioni Ricerca Impaziente avventura Ma ho detto che io mi sono fermata Alla seconda parola Lei ha preso Sì, sì, sì Non ce l'ha Pensava che era un prossimo regalo